Mattia Verona sconfitta a Follonica, ci avete provato, avete cercato anche di riaprirla nel finale del secondo tempo, però insomma una gara difficile. Sì, lo sapevamo, buonasera a tutti, sapevamo che era una gara difficilissima, sapevamo anche che Follonica è una grande squadra e che sta facendo molto bene in questo momento. Abbiamo provato, però abbiamo fatto secondo me troppi errori dove poi lavoreremo. Sono un po' dispiaciuto per il risultato, però posso dire solo che il Follonica stasera ha meritato. Per voi però il campionato poi saranno i play-out, state però bene, nelle ultime settimane avete dato grandi segnali. Sì, stiamo facendo penso un grande lavoro, è un lavoro comunque che ci impegna tanto, che stiamo cercando di fare il massimo e stiamo facendo anche abbastanza bene. Ora stasera il risultato è un po' dilagato, comunque diciamo che il Follonica è una grande squadra, gli lasci un centimetro, se lo prendono e hanno la qualità per buttarla dentro. Quindi abbiamo, come ripeto, fatto troppi errori dove poi lavoreremo e cercheremo di andare avanti sulla via che abbiamo preso in questo periodo. Un'annata comunque tribolata a Mattia perché insomma Vercelli con tutto il successo, ora Breganzi, ma Breganzi ha ritrovato Crudeli e state facendo, come detto, di tutto per la salvezza. Sì, sì, certo, Roberto per fortuna è qui con noi, sta facendo un grande lavoro, ci sta mettendo in condizioni comunque di giocarcela con tutti, anche perché penso che il primo tempo comunque siamo stati in partita, poi dopo il Follonica ha dilagato, abbiamo provato a riprenderlo, poi è stato troppo difficile e non ce l'abbiamo fatta e abbiamo fatto degli errori che poi ce l'hanno compromesso tutto.